ah facciamo un confronto crizzo empro classico 2023 che ha vinto è quello di quest'anno in cui è arrivato terzo front double bicep come già detto nel video disastro crizzo la cosa che si nota di più secondo me sono gli obliqui che si sono allargati davvero tanto sono ingrossati si è allargata la vita non so siano questioni di luci o altro ma sembra anche meno definito ci sono meno tagli nelle gambe in generale il colpo d'occhio è sicuramente peggiorato soprattutto per la vita per questi obliqui che oltre a ingrossare la vita danno l'effetto che i dorsali che già sono scarsi siano ancora meno larghi quindi minor v taper che già non era eccezionale dorsali di conseguenza meno evidenti colpo d'occhio che è una bella caffonata diciamo quindi di sicuro ha peggiorato vistosamente sotto questo punto di vista non capisco cosa sia successo è peggiorato molto anche in posing se guardate il video che ho fatto di commento all'empro di quest'anno vedrete anche che il posing è molto molto incerto front l'out spread qui c'è anche una differenza nell'esecuzione quest'anno sembra che vada molto avanti col bacino sembra che spanchi di più e c'è un'esecuzione più diversa a livello anche di spalle quindi sembra che voglia espandere di più i dorsali però finisce con l'espandere di più lo stomaco fondamentalmente l'esecuzione l'anno scorso è sicuramente superiore i dorsali erano quello che erano anche l'anno scorso però il petto i deltori e le braccia sembrano più dense più piene lo stomaco era più in controllo gli obliqui erano più piccoli l'esecuzione di sicuro superiore quella dell'anno scorso quindi davvero questo l'out spread del 2024 era una schifezza sai c'è anche in questo caso c'è un'esecuzione diversa si sta buttando in avanti nel 2024 i glutei quest'anno sembrano più definiti però sono comunque piccoli e come ha detto qualcuno in un commento nel video che ho fatto disastro cristo ha proprio un'inesistenza di curvatura lombare a quanto pare la schiena è molto molto dritta e probabilmente questo influisce anche sul ipertrofia dei glutei anche su altri aspetti l'esecuzione dell'anno scorso era sicuramente superiore non capisco perché tenga le mani così distanti dal tronco sia l'anno scorso che quest'anno comunque brutta esecuzione a quella di quest'anno back double bicep un disastro totale a destra proprio la eseguita male con le braccia non sullo stesso livello sembra che abbia perso anche un po di muscoli soprattutto nella parte sinistra la simmetria c'era anche l'anno scorso però era meno peggio molta densità nei deltoidi nelle braccia e nel trapezio poca roba sotto il trapezio sia l'anno scorso che quest'anno però si vedono anche qua gli obliqui come siano sporgenti nel 2024 lo erano un pochino anche l'anno scorso però di sicuro di meno quindi un vitae per superiore al 2023 con dei glutei piccoli però più definiti la spread anche qui più o meno stesso discorso esecuzione diversa nel 2023 si butta all'indietro nel 2024 sta più dritto poi c'è stata un'incertezza nel posing la preparazione della posa vi rimando al video che ho fatto qualche giorno fa perché si deve come la routine fosse incerta un bodybuilder come detto molto alto per la media comunque dei bodybuilder che non riesce ad allargarsi a sufficienza quindi una posa anche questa molto peggiorata non si apre abbastanza meno dell'anno scorso comunque che già si apriva poco secondo me ha peggiorato in densità nella parte bassa della schiena manca qualcosa cioè questo fosse un danno non lo so se sia così però sicuramente è peggiorato site rice per questa delle poche pose che regge ancora il confronto ma che comunque è ugualmente peggiorato anche qui si vede come si sia ingrossato l'obliquo non mi piace particolarmente il petto rispetto all'anno scorso sembra un po meno pieno però verosimilmente è la posa che è meno peggiorata insieme con la most muscular comunque un crizzo che è peggiorato globalmente su ogni punto di vista sotto la definizione sotto il posing per la completezza muscolare ha perso muscoli secondo me soprattutto nella schiena nella parte bassa quindi peggiorato sto ogni punto di vista infine most muscular quella l'anno scorso è la fantastica quella di quest'anno è comunque buona però mi sembra inferiore come detto non so se siamo questioni di luci non so se siamo questioni di definizione e basta però è meno definito nelle gambe nel petto nelle braccia dappertutto quindi tiriamo le somme un crizzo come già detto peggiorato su ogni punto di vista non so cosa gli sia successo non ne ho la più palida idea però anche se gli fosse successo qualcosa ha anche posato peggio quindi secondo me c'è stata più una impreparazione globale sotto ogni punto di vista fatemi sapere un po che ne pensate buona